Il derby novarese premia il bule Bellinzago che supera in rimonta 4-2 l'Accademia Borgomanero, salendo così a quota 6 in classifica. Determinante la superiorità numerica dei padroni di casa per un'ora. La cronaca, alla prima chance passa l'Accademia, al farano sulla sinistra calcia, tiro potente che sorprende Crocamo che non trattiene e la palla si insacca. Al trentesimo, episodio determinante, Albini, secondo il direttore di gara, si rende protagonista di un'espressione blasfema, rosso diretto ed Accademia in dieci. Al trentanovesimo, colpo di testa di Di Cesare, palombella pericolosa che non sorprende Mersini. E' il preludio al pareggio che arriva poco dopo, palla in area per Latta che fa da sponda per l'inserimento di Di Cesare, piazzato preciso che trova l'angolo alla sinistra di Mersini. Nella ripresa, giostra di gol ed errori. Al diciottesimo, il sorpasso, azione sulla sinistra di Cannataro, cross in mezzo, girata di Latta, Mersini combina la frittata e il bule passa avanti 2-1. Al ventiquattresimo, il tris, errore di Inzaghi, Latta ne approfitta e supera il portiere ospite con un perfetto pallonetto. L'Accademia accorcia subito, errore a centrocampo, ne approfitta il Farano, che vince un contrasto e si invola verso la porta avversaria, a tu per tu con il portiere, finta a eludere l'intervento di un avversario e diagonale vincente. Al quarantatresimo, il bule che chiude i giochi, bella azione sulla destra di Dervisci, palla per Blanda, che salta un uomo e calcia a botta sicura. Miracolo di Mersini, che respinge di piede, sulla ribattuta arriva Parini, che insacca.